La peste è una malattia infettiva causata dal batterio Yersinia pestis. È una malattia grave che può essere trasmessa agli esseri umani da animali infetti, come i roditori e le pulci. La peste si è diffusa in Europa diverse volte nel corso della storia, causando milioni di morti. La prima epidemia di peste in Europa La prima epidemia di peste in Europa è stata la peste di Giustiniano, che si è verificata tra il 541 e il 549 dc. Questa epidemia ha avuto origine in Egitto e si è rapidamente diffusa in tutto il Mediterraneo, raggiungendo l'Europa nel 543 dc. La peste di Giustiniano ha ucciso milioni di persone, forse fino a un terzo della popolazione dell'impero romano d'Oriente. La peste nera La peste nera è stata la più grave epidemia di peste in Europa. Si è verificata tra il 1347 e il 1353 dc e ha ucciso circa 20 milioni di persone, ovvero un terzo della popolazione europea. La peste nera ha avuto origine in Asia centrale e si è diffusa in Europa attraverso le rotte commerciali. La malattia è arrivata in Europa nel 1347, a bordo di navi genovesi che erano state infettate da pulci di roditori. La peste nera ha avuto un impatto devastante sull'Europa. Ha causato la morte di un gran numero di persone, compresi molti nobili e ricchi. La malattia ha anche causato il collasso dell'economia e della società europea. Le altre epidemie di peste in Europa Dopo la peste nera, la peste si è diffusa in Europa diverse altre volte. La seconda pandemia di peste, che ha avuto luogo tra il 1450 e il 1750 dc, ha causato altre epidemie in Europa, tra cui la peste di Londra del 1665-1666. La terza pandemia di peste, che ha avuto luogo tra il 1850 e il 1950 dc, ha causato la peste di Marsiglia del 1720 e la peste di San Francisco del 1900. Le conseguenze della peste in Europa La peste ha avuto un impatto profondo sulla storia dell'Europa. Ha causato la morte di milioni di persone, ha devastato l'economia e la società europea e ha contribuito a cambiamenti significativi nella cultura e nella religione. La peste ha avuto un impatto significativo sulla società europea. Ha causato la morte di un gran numero di persone, in particolare di giovani e poveri. Questo ha portato a un cambiamento nella struttura demografica della società europea. La peste ha anche causato la perdita di manodopera, che ha avuto un impatto negativo sull'economia. La peste ha anche avuto un impatto sulla cultura e sulla religione. Ha portato a un aumento della superstizione e dell'ostilità verso gli ebrei, che erano spesso accusati di essere responsabili della diffusione della malattia. La peste e la scienza La peste ha anche contribuito allo sviluppo della scienza. I medici europei hanno iniziato a studiare la malattia e hanno sviluppato nuove cure. Nel 1894, il batteriologo Alexandre Yersin ha scoperto il batterio responsabile della peste. Questa scoperta ha portato allo sviluppo di nuovi farmaci e vaccini contro la malattia. La peste oggi La peste è ancora una malattia presente nel mondo. Si stima che ogni anno circa 2000 persone muoiano di peste. La malattia è endemica in alcune parti dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. La peste è una malattia prevenibile. Ci sono vaccini disponibili che possono proteggere le persone dall'infezione. È anche importante adottare misure per prevenire la diffusione della malattia, come evitare il contatto con animali infetti e pulci. La peste è una malattia prevenibile. Grazie a tutti